Oggi ho voluto invitare qui alla piana di Talacchio, nella zona industriale, alcuni responsabili della regione perché c'è un problema purtroppo in sospeso da due anni. Alla regione risulta che la banda larga qui sia stata attivata, addirittura pare ci sia stato persino il collaudo nel 2021. Invece molte aziende di questa zona ancora non possono usufruirne perché non è scattata la vendibilità. Io oggi voglio mostrare direttamente la centralina alle funzionarie regionali che purtroppo non sono esattamente al corrente della situazione e potranno vedere con i propri occhi, toccare con mano perché va sollecitata l'azienda che ha concluso i lavori, che è stata pagata. Dovrà probabilmente riaprire anche il cantiere, l'intervento per fare in modo che qui sia attiva al più presto la banda larga. Ci sono ancora molte, molte zone grigie. Io ho presentato un'interrogazione martedì scorso in consiglio regionale e nella risposta risulta che alcune zone della nostra provincia non sono state ancora assolutamente toccate dall'inizio dei lavori. Altre invece li hanno conclusi ma anche qui dove in teoria dovrebbero essere conclusi purtroppo non è attiva. Possiamo dire che da parte di Open Fiber risulta tutto funzionante nel senso che la regione, lo dico in maniera tale che così chiariamo anche un po' di dubbi in tal senso, la regione si occupa attraverso Open Fiber del potenziamento della parte infrastrutturale. Cioè quindi i canali attraverso i quali distribuire e poi arrivare la parte della banda ultralarga. Poi c'è una seconda fase che è quella commerciale, che è quella del libero mercato dove ovviamente non interviene la regione, che riguarda gli operatori e il territorio. Ecco, il cortocircuito abbiamo capito che è in questa seconda fase, ovvero quella degli operatori. Perché non tutti gli operatori utilizzano la infrastruttura di Open Fiber e quindi che ha messo a disposizione la regione. Allora sarà nostro compito, c'è anche la dirigente, la dottoressa Serena Carota, abbiamo così dato assicurazione agli imprenditori, di approfondire questo aspetto per cercare di trovare anche noi un punto di caduta tra Open Fiber e gli eventuali operatori che devono servire assolutamente questa zona perché è assurdo che ci siano dei disservizi del genere. Grazie. 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 Grazie.